Nuovo appuntamento con Tra le righe consigli di lettura. Anche questa settimana siamo nella libreria Padre Pio a San Giovanni Rotondo, a pochi metri dal convento dei Frati Cappuccini. Allora partiamo con presentare un libro dedicato al Santo di Pietrelcina che abbiamo sicuramente presentato tante volte ma che è uno dei pochi libri che si possono leggere per comprendere e capire la vita del Santo di Pietrelcina. Crocifisso senza croce firmato da Padre Fernando D'Ariese Pio X. È l'intera biografia del Santo di Pietrelcina ristampata tante e tante volte perché richiesta da tutti, da coloro che lo hanno conosciuto in passato ma anche dai tanti che si vogliono approcciare per la prima volta al Santo di Pietrelcina. L'Evangelica virtù della povertà. Leggiamo uno stralcio tratto appunto da questo capitolo. Il frate per le cui mani passò tanto denaro da permettergli l'erezione della casa sollievo, amò e coltivò la virtù della povertà. Povertà reale aveva trovato nascendo nella sua famiglia di Pietrelcina, povertà evangelica aveva promesso nella professione religiosa, fu fedele al suo voto e alla virtù caratteristica francescana. Il mondo in cui visse la maggior parte della vita fu ambientalmente povero e geograficamente assai limitato. Una cella per il riposo, un altare per la preghiera, un confessionale per il lavoro. Tutto qui, tutto quello che gli permetteva appunto di essere sacerdote. Quindi come scrive Padre Ferdinando in questo libro, né viaggi turistici né gioie legittime di evasioni e di interessi per la bellezza del paesaggio e dell'arte. Una povertà di libertà, di movimento, di evasione. Una povertà quasi dell'aria da respirare. Una povertà dello spirito in cui muoversi. Non approfittò del denaro che gli perveniva per i poveri e per i malati. Accettò di riceverlo quando, costretto da circostanze, ne ebbe l'autorizzazione dei superiori. Naturalmente schivo, dal toccar denaro, ne faceva scrupolosa distribuzione. Metteva da parte le offerte inviate al convento, che poi dava al superiore, e dall'altra raccoglieva le offerte destinate alla casa sollievo della sofferenza. Erano precisazioni che ripeteva spesso. Se dovessi morire all'improvviso, ricorda, in questa tasca, ed indicava la tasca destra del saio, ci sono le offerte per la clinica, e in quest'altra tasca, ed indicava quella di sinistra, ci sono le offerte per la celebrazione di sante messe. Il cardinale Giacomo Lercaro scrisse, se le ricchezze affluivano a lui, le sue mani si erano davvero forate. Si discussero di padre Pio le stimmate. Nessuno però avanzò il dubbio che le sue mani non fossero forate. La casa sollieva un'opera fiorita per i poveri dalla povertà di un frate, che si fidava esclusivamente della provvidenza e mirava ai beni del regno. Padre Pio vestì sempre da povero frate. Abiti nuovi non ne desiderò mai d'averli, contento di quelli già usati. Pure i cingoli li portava sino alla logorazione. Un suo superiore, padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, una volta gli cedette il proprio cingolo, tanto era logoro quello di padre Pio. E poi continua anche con altri ricordi e fatti appunto legati alla vita del santo di Pietrelcina. Vi consiglio questo libro, appunto la biografia di padre Pio, firmato da Ferdinando D'Ariese Pio X. Padre Pio da Pietrelcina, crocifisso senza croci. Edizioni padre Pio da Pietrelcina naturalmente. Un uomo, un medico, un santo. Questo è il sottotitolo del libro dedicato a San Giuseppe Moscati e firmato da San Beatrice immediata delle figlie di San Paolo. Il libro è edito dalle Paoline e racconta la storia di questo giovane medico Giuseppe Moscati, vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. La sua personalità di medico e di studioso e in particolare la sua grande carica di umanità si impose senza volerlo all'attenzione di colleghi e pazienti per la illuminata competenza professionale e per la dedizione incondizionata al mondo della medicina. Lo chiamavano il secondo Cardarelli. Leggiamo un passaggio di questo libro. Il paragrafo si intitola La missione del medico. A un suo studente che si laureava in medicina, Moscati scrive una lettera di auguri che è anche un programma per il giovane medico. Era il 4 settembre del 1921. Tra l'altro dice Uno dei giovani medici che aveva frequentato i suoi corsi aspirava alla carriera scientifica, ma era costretto a fare il medico condotto. Soluzione che il giovane accettava con difficoltà. Allora Moscati li scrive con delicatezza paterna Mio caro, non siate triste. Ricordatevi che vivere è missione. È dovere e dolore. Ognuno di noi deve avere il suo posto di combattimento. Se Dio vuole che esercitiate la vostra nobile missione tra la gente di campagna, significa che vuol servirsi di voi per seminare il bene in quei cuori. Ricordatevi che non solo del corpo vi dovete occupare, ma delle anime afflitte che ricorrono a voi. Quanti dolori voi elenirete più facilmente con il consiglio e scendendo nello spirito, anziché con le fredde prescrizioni da inviare al farmacista. Siate nel gaudio perché molta sarà la vostra mercede, ma dovrete dare esempio a chi vi circonda della vostra elevazione a Dio. Ed è sorprendente come questa lettera, riportata di proposito per intero, riveli la singolare personalità di Moscati, la capacità di porsi accanto a chi si trova in difficoltà e la comprensione profonda di ciò che l'angustia e proporre la bellezza di un ideale al momento può sembrare offuscato all'interessato. Non manca, come sempre, l'invito ad accostarsi al Signore nel Sacramento dell'Eucarestia, da cui prendere ispirazione per la carriera futura. E in quest'ultima esortazione vi si può leggere con sicurezza la sua quotidiana esperienza. Un libro davvero particolare e significativo perché racconta alcuni tratti della vita, ma anche della spiritualità di San Giuseppe Moscati, medico, un uomo, un medico, un santo. Questo è il sottotitolo del libro, edito dalle Paoline, firmato da Suor Beatrice immediata. Il prossimo libro è edito da PM con la libreria editrice vaticana, firmato da Chiara Ammirante, intitolato Dio e gioia. Papa Francesco incontra nuovi orizzonti. Perché? Come leggiamo nella prefazione scritta dalla stessa Chiara Ammirante, che lo ricordiamo, classe 1966, dagli anni 90 si dedica ai ragazzi di strada, al popolo della notte, nei luoghi più degradati della città. Nasce così da questa sua missione e vocazione, nuovi orizzonti, una piccola comunità residenziale diventata poi una vera e propria cittadella della solidarietà. Il 24 settembre dell'anno scorso, del 2019, Papa Francesco arriva in segreto in visita alla cittadella Cielo, per passare un'intera giornata con i ragazzi che si trovano all'interno della cittadella, ascoltare le loro storie e parlare con loro. È stata una giornata intensa, caratterizzata dalle lacrime e dalla commozione della gioia, scrive nella prefazione Chiara Ammirante. Una giornata talmente bella che avremmo voluto condividerla con il mondo intero, ma non era possibile. È nata così l'idea di questo libro, nel quale Chiara Ammirante ha raccolto le testimonianze che alcuni giovani hanno riportato al Santo Padre, gli interventi di alcuni amici presenti, tra cui Bocelli, Neck, Matteo Marzotto e Fabio Fazio, e soprattutto i pensieri che Papa Francesco ha rivolto ai ragazzi dialogando con loro durante la Santa Messa. E poi un testo, un libro che viene arricchito da un'intervista che Chiara ha realizzato al Santo Padre. Le ha posto tre domande sulla gioia. Infatti, come Chiara Ammirante si è proposta per questo libro a Papa Francesco, ha detto potrei chiederle un piccolo regalo. Certo, le ha risposto prontamente Papa Francesco. Vorrei fare tre domande sulla gioia, registrarle e poi pubblicare le sue risposte nel libro che sto scrivendo, Dio e gioia. Quindi riportare le risposte del Papa. Una domanda su tutte, qual è il suo segreto? E poi c'è la risposta del Papa, che non vi anticipo. Quindi il libro, appunto, riporta anche in conclusione questa breve intervista, questa chiacchierata che Chiara Ammirante ha fatto con il Santo Padre. Vi leggo il ringraziamento che il Papa ha fatto a tutta la comunità al termine di questa giornata. Vi ringrazio perché voi oggi non avete detto parole, avete detto vita, cammini di spirito e di carne. Io non ho preparato risposte, ma ho preferito così, dirvi quello che voi avete fatto in me, come io vi ho percepito e dare testimonianza, perché anche voi avete seminato qualcosa in me oggi. Parole di Papa Francesco riportate in questo libro, appunto, firmato da Chiara Ammirante, in cui racconta la visita a sorpresa, però ecco, segretamente organizzata, di Papa Francesco alla Cittadella Cielo per accogliere, per ascoltare, per trascorrere un'intera giornata con questi ragazzi che hanno incontrato il dolore nel corso della loro esistenza. Ma poi, come ha scritto anche uno dei ragazzi, appunto, uno dei testimoni all'interno di questo libro, quando poi si è creata una crepa e lì è entrata la luce, lì è entrato Dio. Dio e gioia, Papa Francesco incontra nuovi orizzonti, Chiara Ammirante, edizioni PM e libreria editrice vaticana. Concludo con un libro di Bruno Ferrero. Mi piace concludere con una storia che ci lasci poi qualcosa al termine di questo nostro appuntamento. Bruno Ferrero e le sue storie, quindi non ha bisogno di presentazione, piccole storie per l'anima. Questo libro si intitola La cena in paradiso. Prendo, leggo una storia intitolata La vita. Questa è la storia di un uomo che quando era ragazzo e andava a scuola continuava a dire quando lascerò la scuola e comincerò a lavorare, allora sarò felice. Lasciò la scuola, cominciò a lavorare e diceva quando mi sposerò sarà la felicità. Si sposò e in capo a pochi mesi constatò che alla sua vita mancava un po' di varietà. E allora disse, ah, come sarà bello quando avremo dei bambini. Vennero i bambini ed era un'esperienza affascinante, ma piangevano tanto e alle due di notte, anche quindi. E il giovane sospirava, crescano in fretta. I figli crebbero, non piangevano più alle due di notte, ma facevano una stupidaggine dopo l'altra. E così cominciarono i veri problemi. E allora l'uomo sogniò il momento in cui sarebbe stato di nuovo solo con la moglie. Così saremo tranquilli, disse. Adesso è vecchio e ricorda con nostalgia il passato. Era così bello. Un tizio domandò a Cohen, secondo te qual è la cosa più divertente degli esseri umani? Cohen rispose, il fatto che siano sempre contraddittori. Hanno fretta di crescere e poi sospirano per l'infanzia perduta. Sacrificano la salute per ottenere il denaro e poi spendono i soldi per avere salute. Pensano in modo talmente impaziente al futuro che trascurano il presente, così non si godono. Nel presente e nel futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto. Tante piccole storie che fanno bene all'anima. Questo libro di Bruno Ferrero intitolato La cena in paradiso. Piccole storie per l'anima. Con questa segnalazione vi ringraziamo per essere stati con noi anche in questo appuntamento e vi rinnoviamo l'appuntamento contro le righe alla prossima settimana. Piccole storie per l'anima.